Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Allora oggi andremo a fare la pizza challenge con... Che come avete capito sicuramente si svolge con la pizza Eccola qua Per me a tagliare Qui ci sono i bigliettini con gli ingredienti su tutti che dovremmo andare Noi andremo a tagliare questa pizza in quattro E dopo di che ne abbiamo un'altra nella mangiare tutta bella buona Sì, perché ce lo mettiamo dopo la pizza Iniziamo tagliandola in quattro punti Comincerà lui perché lo sentite bene Presentati Ciao, sono Andrea Ecco il capo Perfetto Vabbè, cominciamo con... Vai Leggi Caramelle Caramelle Oh, è l'ottima Quelle sono le caramelle Però sono buone Con le prezzanti Sì Sei buona? All'ottima Sì, va bene, va bene Sì, va bene Oddio Ma che pizza è questa? Ok Ora, questo Caramelle che pizza Vai Oddio Ciao Allora, va più sentito Vai, per una Sì Patatine 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 che schifo? questo! scusa che scrivo tu? NUTELLA! dopo queste cose le dovremmo mangiare quindi che schifo! che ne so? gallette allora facciamo queste nuove qua! ecco vai marmellato le cose dolci non ero peterono SIIIIII Sijinape che duplo sto masco tutta così vai dai son sapato Scusa, io non posso mangiare sto caso? Salame! Salame! Andiamo accorti che il salame non ce l'abbiamo quindi l'hai mercurato. Menderò comunque. Mi rimangono pochi. Salame! Ok, tocca a lei! Aceto! Mandarino! Ulise! Ulise! Banana! Banana! Avvenuto! Avvenuto! Pollo? Ok! Allora il pollo con un pobetterà sulla pizza e assaggeremo il tutto. Iniziamo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.